Benvenuti e benvenuti a questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione della domanda di partecipazione al concorso per la dirigenza scolastica. Le iscrizioni saranno aperte da martedì 19 dicembre 2023 fino a mercoledì 17 gennaio 2024. Le domande scadranno alle 23.59, tuttavia vi consiglio di non attendere l'ultimo giorno per inoltrare la domanda onde evitare eventuali problemi tecnici con la piattaforma. La domanda si presenta attraverso la seguente piattaforma concorsi e procedure selettive. Vediamo ora come accedervi. Un modo è quello di accedere al portale inpa.gov.it nel quale vengono pubblicati tutti i bandi dei concorsi pubblici. Dato che sono tanti, conviene usufruire di questo motore di ricerca digitando alcune parole chiave come ad esempio dirigenti scolastici e cercare il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche e statali. Cliccando si visualizzano diverse informazioni e in fondo basta cliccare su invia la tua candidatura. Si accederà alla pagina di Login dove bisognerà utilizzare uno dei seguenti servizi per accedere. Tra i più utilizzati vi è lo speed. Un altro modo è quello di cercare la piattaforma concorsi e procedure selettive attraverso un qualsiasi motore di ricerca. Una volta trovato basta poi cliccare qui su vai al servizio. Si può accedere anche da Polis istanze online. Per farlo basta effettuare l'accesso al servizio, cliccare in alto a destra sul proprio nome e cognome o su area riservata, sulla colonna di sinistra su servizi, tutti i servizi e poi cercare in ordine alfabetico la piattaforma concorsi e procedure selettive. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma visualizzeremo tutti i bandi aperti. Cerchiamo quello per dirigenti scolastici e clicchiamo su compila la domanda. La prima volta visualizzeremo l'informativa. Dovremo cliccare in fondo su presa visione e poi su avanti. Nella nuova pagina bisognerà selezionare la regione di partecipazione al concorso. Ricordo infatti che il concorso è nazionale ma su base regionale. Quindi si ritorna a un concorso in cui si sceglie una regione in cui svolgere le prove e in cui si vuole entrare in ruolo come dirigenti scolastici. Non si potrà scegliere fra tutte le regioni. Come vedete alcune sono in grigio poiché non vi sono posti disponibili. Per sapere il numero dei posti banditi in ogni regione vi rimando all'articolo 3 del bando di concorso, cioè il decreto dipartimentale numero 2788 del 18 dicembre 2023. Cliccando su avanti potrebbe comparire questo messaggio di errore in cui si invita l'utente ad accedere alla propria area riservata per inserire il proprio indirizzo PEC. Si tratta infatti di un dato obbligatorio richiesto dal bando di concorso. Per farlo basta cliccare in alto a destra sul proprio nome e cognome, poi su area riservata, su gestione profilo, e poi su modifica email. Cliccando avanti nella domanda visualizzerete i vostri dati personali. Controllateli. Se avete bisogno di aggiornarli, potete farlo nuovamente accedendo all'area riservata. In caso contrario, continuate a cliccare su avanti e accederete alla pagina principale di compilazione della domanda. Come potete vedere, è necessario compilare almeno queste tre sezioni in rosso. Diversamente non è possibile inoltrare la domanda. Le altre due sono invece facoltative. Questo tasto blu invece è per generare automaticamente il bollettino da pagare per la tassa concorsuale. Iniziamo con la compilazione dei titoli di servizio necessari per l'accesso. Per farlo basta cliccare sull'icona col più in corrispondenza del nome della sezione. La prima parte, quella sui dettagli utente, apparirà compilata automaticamente. Passiamo quindi ai dettagli per la nomina in ruolo. Supponiamo di essere stati messi in ruolo il 1 settembre 2021, quindi questa sarà la data di decorrenza economica, ma supponiamo che ci sia stata una retrodattazione giuridica della nomina al 1 settembre 2020. Supponiamo di aver svolto l'anno di prova nello stesso anno scolastico in cui si è stati messi in ruolo e quindi la data di conferma in ruolo sarà 1 settembre 2022. Come potete osservare, il sistema calcola automaticamente gli anni di servizio svolti per il ruolo. Inoltre bisognerà dichiarare o meno eventuali periodi di interruzione cliccando su sì oppure su no. Come possiamo notare, se cliccassimo in questo momento su salva comparirebbe un messaggio di errore. Questo perché il bando e il regolamento di concorso prevedono tra i requisiti d'accesso il possesso di 5 anni di servizio tra ruolo e preruolo. Dato che in questo caso gli anni di ruolo sono solamente 2, l'anno di retrodattazione giuridica non si conta, bisognerà necessariamente inserire 3 anni di servizio di preruolo. Per anno di servizio, ai sensi dell'articolo 11,14 della legge numero 124 del 1999, si intendono anni in cui sono stati prestati 180 giorni di servizio oppure servizio continuativo dal 1 febbraio agli scrutini. Per farlo, clicchiamo poi su aggiungi e inseriamo i dati richiesti. Quindi l'anno scolastico di servizio, abbiamo quindi 2020-2021, il codice meccanografico della scuola, in automatico il sistema ritroverà la denominazione della scuola, provincia e comune. La tipologia di servizio possiamo selezionare solamente scuole statali perché sono validi solamente i servizi prestati nelle scuole statali. Bisognerà poi indicare la data di inizio e quella di fine contratto. E infine, come prima, bisogna dichiarare se ci sono stati dei periodi di interruzione. Una volta terminato, si torna indietro, si clicca nuovamente su aggiungi e si ripete la stessa procedura per raggiungere le altre annualità. A titolo di esempio, vi mostro la compilazione delle altre due annualità, una nel 19-20 con una compilazione praticamente analoga a quella precedente e un'altra svolta invece nel 18-19 con la differenza sul periodo del servizio. Qua non sono state indicate la data di inizio e di fine servizio perché non coprivano 180 giorni di servizio, ma siccome si copriva continuativamente il servizio del primo febbraio di scrutini, è stata spuntata questa voce. Infine, se ci sono delle comunicazioni che vorreste dare, ma che non possono essere inserite all'interno di questi riquadri, potete aggiungerle come nota all'interno di questo riquadro. Una volta conclusa la compilazione, clicchiamo in alto a destra su Salva. Come possiamo notare, si ritorna nella pagina principale e compare un messaggio in verde che ci avvisa della corretta compilazione della sezione. Passiamo ora alla compilazione della sezione relativa all'altro requisito d'accesso, cioè il titolo di studio. Il regolamento e il bando prevedono che si possa accedere al concorso con un titolo di secondo livello relativo all'istruzione superiore. Quindi può essere un diploma accademico di secondo livello oppure una laurea vecchio ordinamento, oppure specialistica, oppure magistrale. Tale tipologia va indicata proprio nella prima voce. Nella seconda, titolo di studio, bisogna invece indicare la specifica laurea. In questo caso metteremo LM40 magistrale in matematica. Bisogna poi inserire l'anno accademico di conseguimento, la data, il luogo di conseguimento. Bisognerà scegliere attraverso il menu tendina fra le varie università proposte. Infine si inserisce il voto e la base di votazione. E in automatico il sistema lo convertirà in centesimo. E si spunta la voce della lode, se chiaramente questa è stata conseguita. Nel caso di titolo estero, vediamo che in fondo al riquadro sono presenti delle voci per la compilazione. Una volta concluso, clicchiamo su Salva. Passiamo ora alla compilazione dell'ultima sezione obbligatoria, quella relativa alle altre dichiarazioni. Ma dato che in questa sezione dovremo anche allegare la ricevuta di pagamento, dovremo prima cliccare su questo tasto blu per emettere il bollettino ed effettuare il pagamento. Come possiamo vedere, si viene reindirizzati direttamente con Pavo in rete e viene generato automaticamente il bollettino da 15 euro. Si può effettuare il pagamento online oppure si può scaricare il documento da presentare presso ricevitorie, tabacchi e banche. Ora siamo pronti per compilare le altre dichiarazioni. In questa sezione bisogna dichiarare la propria cittadinanza, i diritti civili e politici, di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune che va chiaramente specificato, di avere l'idoneità fisica, di avere o non avere condanne, procedimenti penali, procedimenti amministrativi, precedenti penali, di non essere stati destituiti o licenziati alla pubblica amministrazione. Abbiamo poi una nuova sezione facoltativa per coloro che beneficiano della legge 104 o della legge 170 che possono chiedere ausili e o tempi aggiuntivi. In questo caso bisogna anche inserire un'apposita certificazione sanitaria. Inoltre bisogna dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste da questo articolo del testo unico, che è quello relativo alla sospensione dell'insegnamento. Abbiamo poi la sezione obbligatoria sul versamento. Infatti è obbligatorio compilare questa sezione proprio perché prima di inoltrare la domanda bisogna dichiarare di aver effettuato il versamento e allegare la ricevuta di pagamento. Infine bisogna dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Una volta concluso clicchiamo su salva. Se non si possiedono altri titoli valutabili o titoli di preferenza abbiamo concluso e bisogna allora inoltrare la domanda. In caso contrario bisogna compilare una o entrambe queste sezioni. Vediamo come si compila la sezione sugli altri titoli valutabili. I titoli valutabili si suddividono in tre categorie culturali, di servizio e professionali. Prima di compilare la sezione consiglio però di consultare la tabella A allegata al regolamento concorsuale che contiene l'elenco di tutti i titoli con i vari dettagli e il punteggio per ogni titolo. Tra i titoli culturali si possono valutare lauree di secondo livello purché ulteriori rispetto a quella di accesso. Ciò significa che in questa sezione non si può inserire nuovamente la laurea che è stata indicata come titolo di accesso nella seconda sezione della domanda bensì solamente una ulteriore laurea di secondo livello. A titolo d'esempio in questo caso compileremo inserendo un diploma accademico vecchio ordinamento del conservatorio. Bisogna specificare il titolo di studio esatto, l'anno accademico di conseguimento, la data precisa e chiaramente anche il luogo. Clicchiamo su salva. Analogamente il punto A2 va compilato se si possiede una laurea triennale differente o ulteriore rispetto all'eventuale triennale che ha dato accesso alla laurea di secondo livello indicata come titolo di ammissione. Altri titoli che si possono valutare sono il dottorato di ricerca, l'SN, gli assegni di ricerca per almeno un biegno, borse di studio universitarie o di centri di ricerca, master di primo livello da 60 CFU, oppure anche master di secondo livello, sempre corrispondenti a 60 CFU, la partecipazione a programmi come Ecomenius o il programma Erasmus+, il titolo di specializzazione su sostegno, oppure i titoli sull'insegnamento in CLIL. Ci sono tre diverse voci, per tutte e tre comunque si prevede la valutazione se il titolo è congiunto anche a una certificazione linguistica di livello C1 oppure livello C2. Il punteggio infatti è differente a seconda del livello della certificazione. Per sapere quale fra queste sezioni compilare, conviene andare a controllare il riferimento normativo a posto nel certificato che si possiede. Per quanto riguarda i titoli di servizio, si valutano diverse tipologie di esperienze, come quella di preside incaricato, oppure collaboratore del dirigente scolastico, in questo caso si deve possedere la specifica nomina, oppure altri tipi di servizio legati alla formazione iniziale degli insegnanti, come il servizio presso le istituzioni accademiche, come supervisore del tirocinio o tutor coordinatore, oppure quello nell'istituzione scolastico, come tutor dei tirocinanti, oppure ancora aver ricoperto il ruolo di funzione strumentale, oppure un ruolo nel comitato di valutazione del servizio dei docenti. E questo ciò a cui si riferiscono gli ultimi due punti. Infine, come titoli professionali, si valutano l'inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione, oppure contratti di docenza universitaria. Vediamo ora cosa prevedono i titoli di preferenza. Tali titoli servono per determinare l'ordine in gradatoria nei casi di parità di punteggio. Esiste una gerarchia di titoli di preferenza determinata da questo ordine, cioè ogni titolo risulta essere prioritario rispetto a tutti gli altri titoli che lo seguono in questo elenco. Tra i titoli di preferenza più comuni vi è quello dei figli a carico, in cui bisogna anche indicare il numero dei figli. Una volta conclusa la compilazione, clicchiamo su Salva. Torniamo alla pagina principale. Possiamo ricontrollare la compilazione ed eventualmente modificarla cliccando sulle icone con la matita. Una volta concluso, basta poi cliccare su Inoltre. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito www.orizzontescuola.it